T come Terrevoli e Turritto, T come testa della classifica, non più in coabitazione. Ora la vetta del girone H di Serie D è tutta del bitonto, che batte 2-0 al Città degli Olivi, Francavilla e Insigni, B6 successo dell'andata contro i Lucani, e stacca di due a lunghezza il Foggia bloccato sul pari allo Zaccheria d'Alfasano. Miglior inizio di nuovo anno e di girone di ritorno, insomma, non poteva proprio esserci per gli uomini di Roberto Taurino. Partita condizionata dal forte vento e da un manto erboso tutt'altro che in perfette condizioni. Non c'è lo squalificato Marsili tra i pugliesi e Montaldi, che ieri ha spento le sue 40 candeline e resta ai box per problemi fisici, torna all'omasso nei tre di difesa. C'è sorpresa il 99 bolognese in mezzo al campo. Bitonto, in pratica con 5 juniores dall'inizio. Il primo tentativo è degli ospiti, puntoriere calcio, ma la mira è imprecisa. I padroni di casa replicano prima del quarto d'ora. Biasson prova ad inventare, Patiarno sfrutta un'indecisione difensiva ospite, ma Caruso riesce a deviare la traiettoria in calcio d'angolo. E ancora, poco dopo, cross di Biasson, sponda aerea di Patiarno. Conclusione di Turitto, ma è ancora attento l'estremo difensore ospite sugli sviluppi del calcio d'angolo. Colella va giù in aria, ma l'arbitro lascia correre. Il Francavilla in Sini si fa notare in seguito con una punizione di Nolè dalla distanza, neutralizzata facilmente da Figliola. Occasionissima. Bitonto, prima della mezz'ora, il solito, Biasson, Pennella, Patiarno, gioca ad anticipo nei confronti di Caruso, ma quando riesce a liberarsi di due avversari non è preciso nella conclusione. Il vantaggio, Nero-Verde tuttavia è maturo e arriva a 12 minuti dall'intervallo al termine di un'azione corale. Turitto servito da Patiarno crosta verso il centro. Terrevoli completa l'opera di testa. 1-0 Bitonto. Patiarno prova subito a mettere un'ulteriore ipoteca sulla vittoria dei suoi, ma la conclusione dal limite non impegna Caruso. Duplice fischio. Intervallo ripresa che si apre nel segno dei pugliesi. Corner di Bolognese, girata di Colella, palla alta dalla parte opposta sulla punizione tagliata di Nolè. Farinola sul secondo palo non trova il giusto impatto con la sfera. Caruso poi se la cava in qualche maniera sulla punizione dalla distanza di Lattanzio. Tutto facile per Figliola sulla conclusione dalla parte opposta di Nolè. Prima dell'ora di gioco arriva il raddoppio del Bitonto. Bolognese batte il piazzato. Turitto di testa insacca nell'angolino alla sinistra di Caruso. Quinto centro in questo campionato per lui e soprattutto 2-0 per i padroni di casa. L'ultima mezz'ora in pratica è pura accademia. Lattanzio ci prova da fuori aria. Caruso blocca in due tempi dalla parte opposta. Traversone insidioso di Flor del Mondo, Figliola è bravo a giocare d'anticipo. Il Francavilla è in sinni. Cerca di produrre il massimo sforzo per rimettere in discussione il verdetto finale. Ma i risultati non sono quelli sperati. I pugliesi gestiscono la situazione con personalità e tranquillità nell'ultimo quarto di partita. E possono esultare al triplice fischio per la riconquista della vetta solitaria della graduatoria. Ora il Bitonto guarda nuovamente tutte le rivali del aggruppamento dall'alto verso il basso. L'approccio con il nuovo anno per la squadra del presidente Francesco Rossiello è sicuramente incoraggiante.